ciao a tutti e benvenuti su magisoflotus allora prima di iniziare vi ricordiamo di iscrivervi al canale di lasciare un mi piace e di commentare con le vostre opinioni allora oggi presentiamo una deck tech di model sul canale che è tribal zoo ovviamente in versione rivisitata rispetto al tribal zoo classico quindi con tante carte nuove ed è un mazzo che ultimamente su mtgo nelle challenge sta andando bene quindi è un deck su cui si può investire e potrebbe essere un'ottima idea montarlo allora partiamo subito col dire che ha l'urrus come companion per cui ha permanenti che costano 2 o meno e basta perché appunto è la condizione per la quale possiamo giocare l'urrus come companion l'urrus è un 3 2 a costo 3 lifelink e ci permette durante ogni nostro turno di giocare dal cimiterum permanente che costa 2 o meno allora passiamo alle creature le creature non sono poche perché come potete vedere sono 23 quindi un numero non basso per niente e troviamo un po tutti i drop a 1 2 più forti del formato quindi 4 dragons rage channeler che diventano 3 3 volare che attaccano ogni turno se ci sono 4 più tipi di carte nel nostro cimitero e quando giochiamo una non creatura sorvegliamo uno ragavan vabbè lo conoscete tutti quindi 4 ragavan fortissimi poi abbiamo 4 per dare consistenza ai nostri drop 1 e saranno praticamente sempre dei 3 3 a costo 1 quindi comunque molto molto aggressivi e i nostri 12 drop a 1 sono tutti molto molto qualitativi dragons e ragavan ci fanno più qualità e guai la cat è grossa come andremo a vedere a breve ci sono altre creature che sono solo grosse come il tarmo per esempio che è una stellina stellina più 1 di costituzione e ha forse costituzione per il numero di tipi di carte presenti in tutti i cimiteri quindi in questo caso contano anche quelle del nostro avversario e è molto bello perché noi con il dragon channeler possiamo fare cimitero e col tarmo avere veramente una creatura gigantesca che mette tanta tanta pressione al nostro avversario poi abbiamo 3 scourge of the skyclaves allora uno stellina stellina costo 2 che quando vabbè se lo dichiariamo quindi se lo paghiamo settimana ogni giocatore perde metà delle vite però ovviamente fatta settimana è veramente veramente raro quindi la sua forza costituzione sono pari al 20 meno le vite più alte di giocatori cosa vuol dire questo che se noi siamo a 17 e il nostro avversario a 15 lui è un 3 3 perché conta quello che ne ha di più quindi noi in questo caso l'idea è quella di abbassare c'è questa carta forte se abbassiamo sia i nostri punti di vita che quelli dell'avversario e quindi in quel caso diventerà veramente veramente grosso noi ci facciamo tanti danni a soli per via dei colori quindi fecce shockland e al nostro avversario avendo 12 troppo uno forti e dei botti possiamo fare da tanti danni quindi questa carta è forte in questo mazzo e gioca 3 poi abbiamo quattro tarmo ve l'ho già detto e quattro territori al cavo territorio al cavo è una new entry veramente veramente performante ed è un rosso un verde stellina stellina con domain quindi a forze costituzioni pari al numero di tipi di terre basi presenti tra le nostre terre se li abbiamo tutti e 5 bastano solo 3 shockland e un 5 5 costo 2 quando attacca possiamo esiliare fino a una carta da un cimitero oppure scartare una carta e pescare una carta quindi ci fa anche qualità quindi come potete vedere le nostre sei creature diverse sono veramente tutte fortissime abbiamo quattro fulmine quindi tre danni dove vogliamo costruir rosso quattro prismatic ending che è un po la removal più forte del formato soprattutto se giochiamo 5 colori 4 5 colori perché è veramente veramente forte allora come potete vedere in questa lista il blu c'è solo una fecce scusate una shockland altre liste ne possono ne giocano di più però una in teoria basta tanto ci serve per il territorio al cavo e poche altre carte giociamo uno stab or denial di main che è un istante a costo 1 che ci permette di neutralizzare una non creatura a meno che non spenda uno l'avversario e se siamo in ferocious quindi se abbiamo una creatura con forza 4 più la canteriamo e basta poi abbiamo quattro tribal fames che è un po la carta del mazzo domain e faccio mix danni a un target e guadagniamo ex vita molto molto forte e possiamo sparare cinque danni a costo due che non ci sono altre carte che lo fanno in maniera più qualitativa di questa e quindi è un'ottima carta poi abbiamo quattro mission bubble che vanno insieme già con l'urrus dragos re channel tarmo tarmo e eccetera e ci permette di guardare la prima carta di un primordio di un giocatore pescare una carta inizio prossimo upkeep questa lista anche due rancor per dare evasività a lo scourge e il tarmo e il territorio le tre creature grosse i tre drop a due vogliamo renderli evasivi quindi due rancor in più rancor anche se non abbiamo queste creature ma abbiamo i drop a uno li possiamo mettere tanto poi l'importante che non ci viene non ci venga ammazzata la creatura in risposta e poi ci torneranno in mano e le terre sono fecce shockland e passiamo alla staglia in cui abbiamo due calis of the void che sono un buon must in questo momento infatti il prezzo è salito alle stelle poi abbiamo due gutshot un danno a costo 0 o 2 a costo 1 o due vite e 2 subordenaglia 2 velo summer 2 rest in piece e 4 force of vigor allora il mazzo è molto più attivo quindi in realtà i match up sono un po' particolari nel senso che contro aggro noi abbiamo tante creature grosse che in teoria bloccano le creature dell'avversario però se intendiamo aggro barn può essere un problema perché noi perdiamo tantissime vite per la nostra mana base e di main non abbiamo modi di guadagnare vite in realtà neanche di side di side abbiamo i calis of the void e quindi il match up potrebbe essere brutto e noi possiamo vincere ma dobbiamo sperare che l'avversario veda tante creature perché le creature le possiamo bloccare mentre il i botti no contro mid range allora contro mid range tendenzialmente questo tipo di mazzi qua non dovrebbe stare benissimo perché non abbiamo creature come i mazzi aggressivi e quindi l'avversario può gestirle però queste creature sono tanto qualitative quindi secondo me potrebbe anche giocarcela però il mazzo in questa versione quindi va provato controllo anche qui dipende che tipo di controllo abbiamo veramente tante minacce in poco tempo quindi lui deve veramente gestirle in fretta se un turno non riesce a gestirle può essere veramente dura quindi dipende molto dai drop a uno che vediamo classico ragamani se facciamo terra ragamani non non ce lo toglie subito è difficile poi perché avere tre mana ma la possibilità di giocare una carta dal mazzo avversario ma tanto quella di secondo difficile che la giocheremo però avere col mano in più può spostare e contro combo e poi ha i botti quindi in realtà ci basterà fai creature attaccare un paio e poi fare i botti in faccia quindi anche contro controllo contro combo scusate se parliamo di titan shift o quei mazzi la potrebbe essere un match up giocabilissimo e allora a livello economico il mazzo è stracostoso quello da a vabbè 1000 tx 900 tx 1300 euro vediamo se 1300 euro e è molto costoso ma abbiamo quattro ragamani abbiamo quattro tarmo e tanto quattro amici rabubble in realtà guardando guardando bene alla fine una parte delle carte in realtà non sono così costose però la base i calici forse comunque sono carte molti naio quindi anche qui montatelo solo se avete già una base tarlo da zero non so quanto convenga perché poi la lista va testata non si sa se rimarrà nel medio lungo periodo come mazzo competitivo allora siamo giunti a conclusione di questa deck tech speriamo vi sia piaciuta iscrivetevi al canale lasciato mi piace commentate abbiamo il canale telegram lo trovate in descrizione alla prossima ed un saluto ciao